I cancelling sono Emma, ti ascolto. Ciao, come posso aiutarti? Non mi serve aiuto. Ok, e di cosa hai bisogno? Voglio sapere qual è il modo più veloce. Ma che cazzo è sto rumore? È il mio tapirulanti, ti dà fastidio? Ma no. Oh, voglio sapere qual è il modo più veloce per ammazzarmi. Perché non vuoi più vivere? Guarda, non iniziare con le solite stronzate che non devo farlo, eh? Che c'è sempre una via d'uscita, che c'è una speranza. Non c'è? Ok. Ma se non c'è, allora perché hai chiamato? Ho fatto un casino con la lanetta. Non sono riuscito ad andare fino in fondo. Mi sono scorticato come un deficiente. Eh, perché non è facile. Ma cosa? No, dico tagliarsi le vene. Non è facile come sembra. E tu che ne sai? Lo so perché una volta, tanti anni fa, mi sembrava di non avere altre soluzioni e ci ho provato. Ma che ti è successo? Lo vuoi dire prima tu a me? Io Io ero Ero disperata E mi sentivo sola al mondo Ferita e pensavo di non avere più via d'uscita Però poi ho capito che non volevo morire Volevo soltanto smettere di soffrire Ma non si può Non si può Il dolore non passa mai Però si può trasformare Lo possiamo trasformare in qualcos'altro, sai? In cosa l'hai trasformato tu? Ero 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 Grazie a tutti.